Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi venerdì 15 dicembre 2023, Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, prima intesa il Consiglio Europeo, apre all'allargamento, entrerà anche la Moldavia. Zelensky un successo, sia i negoziati in favore dell'Ucraina. Orban rinuncia al veto ed esce dall'aula il ruolo di Meloni. Lo show di Putin, la pace prima la vittoria, quattro ore in tv. E poi la riflessione, sempre più professori pagati poco, la nostra scuola è una lunga crisi. E poi andiamo a vedere, Tenko voleva imitarmi, spararsi e restare vivo, sfidai a pugni, maniero, il grande vecchio, l'artista racconta gli amori, la guerra, la lotta con l'algo. E poi, Gino Paoli ovviamente, manovra, ha deciso il voto di fiducia, sulle cartelle riparte la rottamazione, affitti brevi la legge. E poi andiamo adesso a vedere la Repubblica che titola oggi, l'Europa apre a Kiev. Con una decisione storica, il Consiglio di Bruxelles ha dato il via libera alla trattativa per l'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia nell'Unione Europea. Incontri serrati tra i leader per convincere il riluttante premier ungherese. E poi Orban cede uscendo dall'aula senza mettere il veto. Quindi la cosa importante non è che è uscito dall'aula, è uscito senza mettere il veto. Quindi di fatto ha approvato l'entrata dell'Ucraina in Europa. Zelensky una vittoria, Putin la pace solo quando avremo raggiunto gli obiettivi. La Russia schiera oggi 617.000 militari, un qualcosa come più di 12 corpi d'armata. Però le perdite sono state 300.000, praticamente l'87% delle forze di terra sono state perdute e sono state rimpiazzate con altri 617.000 militari. Intanto Schlein dice questo governo non dura presto il voto. Beh insomma, oggi la Schlein vede cose su Repubblica, questo governo non dura. Cara Schlein dovrai fartene una ragione perché questo governo durerà altri 4 anni. E poi vediamo Sport, l'indagata per abusi torna alla guida delle ginnaste azzurre. Beh, che dire. Andiamo avanti. La stampa di oggi, e invece no, è quella di ieri. Questa è ancora quella di giovedì. Quindi passiamo a Libero Quotidiano. Libero Quotidiano attacca Di Maio. Sapete il fatto del fax. La Meloni con un fax in Parlamento, anche lo ha fatto vedere alle telecamere, dicendo che Di Maio ha mandato l'ambasciatore italiano a firmare il mess il giorno dopo che il governo si è dichiarato dimissionario, il governo ha dato le dimissioni, diciamo così, il 26 di gennaio 2021. La Meloni dice che quel fax è del 27, invece, mentre lo mostra alle telecamere, c'è una data scritta in maniera enorme, coscritto 20 gennaio 2021. E Di Maio ha reagito dicendo che la Meloni racconta menzogne in Parlamento. E qui il giornale di centrodestra per la teoria la miglior difesa e l'attacco attaccano Di Maio omettendo che quel fax, in realtà, che è stato passato alla Meloni, perché, parliamoci chiaro, la Meloni ha mostrato quel fax, era indaffarata, c'è un'indiscrezione che vedrete oggi sul canale, la Meloni era indaffarata, correva, gli hanno dato sto fax, si è fidata di chi glielo ha dato, e quando l'ha mostrato la sera poi si è accorta che c'era sulla data di sei giorni prima, e nell'indiscrezione si parla di una Meloni furiosa per il fax che gli è stato passato, passata probabilmente da una persona che lavora in modo decisamente superficialotto. Però qua, libero, invece di raccontarvi quello che vi ho raccontato io, come per la teoria la miglior difesa e l'attacco vanno giù contro Di Maio che è andato in televisione a Piazza Pulita a dire quello che ha raccontato la Premier è falso. Quindi soccorso a Conte, Di Maio in peggio, Gigino riappare in tv per difendere Giuseppi dalle accuse di Giorgia, è già pronto al ritorno in campo? Vabbè, un po' di fumo negli occhi. Meloni frena Orban, primo ok all'Ucraina per entrare nell'Unione Europea. In realtà non è Meloni che ha frenato Orban, ma è Orban che ha deciso autonomamente di uscire dall'aula e di favorire così l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma non c'entra niente la Meloni. Diciamo che oggi Libero si è dedicato alla difesa di Meloni per il fatto del fax, ma non gli sta riuscendo molto bene, anche perché l'elettorato è molto più intelligente di quello che credono i giornali e i giornalisti. Pirondini e il Carlo Felice, il grillino chiede fondi per il suo teatro. E poi i banchi e rotelle finiscono sui tetti. Guardate che scena veramente disgustosa. Le fantastiche eredità dei 5 stelle. Va bene, andiamo adesso a vedere il giornale. Il giornale di oggi evita accuratamente di parlare della storia del fax, anche perché è meglio sorvolare, anche perché la Meloni è stata fregata ancora una volta dai suoi fedelissimi che sono molto superficiali e come gli hanno passato, l'ha telefonato con i comici russi e lei si è fidata del suo staff, questa volta gli hanno dato un fax senza neanche controllare la data del fax che era scritta a caratteri cubitali. Comunque, andiamo avanti. Il giornale, svolta storica sia all'Ucraina in Europa, il Consiglio apre i negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Unione Zelensky. Una vittoria per tutti. E poi vediamo viaggio ad Atreiu, tra veterani e giovanissimi, qui crescono nuove Georgia. E poi vediamo tutti i matti per il nuovo social network di Zuckerberg. Non ho idea di questo triad, chissà. Vabbè, ce ne sono già fin troppi, io non mi scrivo a un altro social, sarebbe troppo a questo punto. Alla festa di Fratelli d'Italia, briatore shock l'Italia paese di truffatori. L'imprenditore sferza i colleghi nel turismo mentalità predatoria. E' assolutamente ragione. Assolutamente, ha assolutamente ragione. Non è che si dice che tutti sono truffatori, ma c'è la mentalità di fregare il turista. Turista straniero ma anche turista italiano. Se voi andate in una zona d'Italia e vi ascoltano con l'accento di un'altra zona, in molti casi provano a truffarvi. E io l'ho visto sulla mia pelle tante e tante volte. Quindi briatore ha assolutamente ragione. Altro che briatore shock, non facciamo gli ipocriti. Già abbiamo tanta gente ipocrita in Italia, il politicamente corretto, eccetera, eccetera, che basta e avanza. Vediamo il fatto quotidiano. Vediamo Sgarbi e il quadro rubato, riapparso con il ritocchino. La tela seicentesca del Manetti, trafugata nel 2013, sembra la sua. La candela in più. La cattura di San Pietro ricompare due anni fa in una mostra, il critico è un'altra, ma è smentito dal suo restauratore. Vedete che in una c'è una candela, nell'altra non c'è una candela, è anche un muro dietro. I colori sono anche più nitidi. Vabbè, trova le differenze, lo facciamo un'altra volta. Andiamo avanti. Vediamo la verità che ci racconta, alleati col signore della guerra, per mettere le mani sui migranti. Il viceministro Bignami chiede indagini alle capitanerie. Mentre l'esecutivo Conte tratta sulla Libia, il clan Casarini contatta il portavoce di Aftar per trasferire da un cargo fermo a misurata decine di clandestini sulla mare Ionio. Obiettivo un Casual Belli, Casus Belli, contro l'Italia. Anche la casa del No Global era pagata dall'ONG, ma lui chiedeva altro denaro. Ebbè, una bella persona, eh. Insomma, domani è da treio, Elon Musk, perché fanno paura i piani del visionario Elon Musk? Non lo so, ma questo giornalista lo sa e ce lo spiega sulla verità. Pfizer, tonfo in borsa, la pressione per i vaccini è figlia dell'allarme sui Conti. Doppia patacca di Conte per ripulirsi dal MES, il grillino accusa la Meloni, ma la risoluzione di fine 2020 lo autorizzava solo a trattare una riforma. Caduto il governo, il tavolo andava sospeso. Tremonti, il fondo del 2011 legato agli Eurobond, non c'entra con questo. E poi andiamo a vedere il tempo. Ucraina presto nell'Unione Europea. La Roma vince con riserve e baby sheriff. K.O. ma giallorossi ai playoff. Sanità in arrivo 1.200 assunzioni nel Lazio, tra medici, infermieri, operatori e autisti del 118. Gualtieri conferma, termovalorizzatore sempre più reale. Andiamo avanti con la speranza. Chi visse sperando morì. Andiamo avanti in un altro modo, senza la speranza. Vediamo il sole 24 ore, BCE non tocca i tasti, spread giù a 168 alla faccia dei gufi che proprio speravano in uno spread che distruggesse questo governo. Grazie a tutti. Arrivederci.